Benvenuti in questo nuovo video anticipazioni di Pelosetti di Terra Amara dall'8 al 14 gennaio. In questo video vi mostreremo le anticipazioni settimanali di Terra Amara. Lunedì 8 gennaio, nelle prossime puntate della serie, Sermin si impegna nell'allestimento della celebrazione di una tradizione, ma si scontra con l'opposizione di Sanie. Quest'ultima, determinata a fermarla, causa un incidente che la lascia immobilizzata, investendola con il suo mezzo e causandole un serio danno alla gamba. La gestione dell'evento passa così nelle mani di Lutfai, lodata per la sua efficace presa in carico. Nel frattempo, Sermin è costretta a letto, creando tensione tra Betul, Fusun e Sanie. Betul, decisa a liberarsi di Erkan, si rivolge ad Abdul Qadir che le suggerisce di sedurlo per incastrarlo. Per quanto riguarda Demir, non ci sono ancora notizie del suo ritorno. Martedì 9 gennaio, in terra siriana, Fikret e Cetin cercano assistenza da Saab, un caro amico di Fikret. Nel frattempo, ha inizio la cerimonia rituale della circoncisione. Tuttavia, durante l'evento, Ghaffur e Rasit si abbandonano all'ebbrezza, attirando l'ira e la punizione da parte di Sanie. Mentre Zuleyha esprime la sua gratitudine verso Akan, che si fa chiamare signor Mehmet, durante il suo discorso di riconoscimento, lo invita a prendere la parola. Sorprendentemente, Demir non viene menzionato né incluso né i ringraziamenti, un fatto notato da Sermin. Mercoledì 10 gennaio, Akan, sotto l'identità di Mehmet Cara, continua a ottenere la stima di tutti nella regione di Cucurova. Nel frattempo, le voci su una presunta relazione tra Zuleyha e Fikret si diffondono, spingendo Lutfai a implorare l'aiuto di Fekeli per trovare una nuova residenza e allontanarsi dalla villa Yaman. Nel mentre, Fikret e Cetin restano in Siria nella speranza di rintracciare Demir. Tuttavia, quando Saab riferisce loro che la lettera non può essere stata inviata da quel luogo, i due cominciano a sospettare che Demir sia stato sequestrato. Giovedì 11 gennaio. In seguito, in una coincidenza fortuita, Fekeli fa una scoperta sconcertante. Mehmet Cara non è affatto la persona che afferma di essere. Per verificare i suoi sospetti, Fekeli mette pressione su Abdul Qadir, esigendo la verità. Deciso a rivelare l'inganno, Fekeli si prepara a smascherare l'individuo falso, ma un imprevisto imminente minaccia di complicare drasticamente la situazione. Venerdì 12 gennaio, Fekeli è improvvisamente sparito nel nulla, generando preoccupazione in Lutfai che teme per la sua sicurezza. Nel frattempo, Zuleya partecipa a un banchetto organizzato dalla neonata Camera degli Esportatori, dove sono presenti il sindaco e Akan. Betul non è stata inclusa nell'invito, spingendo Abdul Qadir a consigliarle di essere più astuta se ambisce a diventare la nuova figura di spicco a Cucurova. Durante il tragitto, Gaffur e Rasit fanno una scioccante scoperta. Il corpo di Fekeli è rinvenuto all'interno della sua auto, lasciando tutti profondamente scossi. Sabato 13 gennaio, Fekeli è deceduto e l'intera comunità di Cucurova è addolorata per la sua perdita. Tuttavia, sia Lutfai che Zuleya nutrono dei dubbi riguardo alle circostanze della sua morte. Zuleya confida a Lutfai la rivelazione che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come tutti presumevano. Questi dubbi si estendono anche a Demir. Durante la veglia, Zuleya discute con Fikret e diventa evidente che suo marito non è mai stato in Siria. Dopo che gli ospiti se ne sono andati, Akhan arriva per presentare le sue condoglianze a Zuleya. Tuttavia, in quel momento, i due iniziano a condividere i loro dubbi riguardo alla misteriosa morte di Fekeli. Domenica 14 gennaio, Fikret nutre sempre più sospetti nei confronti di Akhan e non vede di buon occhio il tempo che quest'ultimo trascorre con Zuleya. Nonostante gli sforzi di Lutfai nel cercare di fermare Fikret, lui cerca in ogni modo di affrontare Akhan mentre questi visita l'aranceto dell'azienda in compagnia di Zuleya. La tensione minaccia di esplodere in uno scontro acceso, ma fortunatamente Zuleya interviene, chiedendo a Fikret di evitare ulteriori problemi. In seguito, Fikret tenta di scusarsi con Zuleya, ma la loro conversazione finisce nuovamente in una discussione. Grazie per aver seguito questo video Anticipazioni di Terra Amara dall'8 al 14 gennaio. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.